ciao e bentrovati nella cucina di casacrizia oggi vi faccio vedere come ho fatto la moussaka greca come per una volta non so se l'ho fatta bene oppure no però a noi è piaciuta ho tagliato o pulito e ho tagliato la melanzana e le patate ho tagliato una cipolla grossa un aglio poi ci vuole un po di carne macinata e poi ho assemblato il tutto adesso metto a friggere prima le patate speriamo che vi piace ecco inizio con le patate le frigo e poi una volta finita le patate continuo la frittura con la melanzana senza infarinare dopo che ho finito di friggere le melanzane ovviamente faccio raffreddare l'olio lo butto e lascio giusto pochissimo per mettere a soffriggere l'aglio e la cipolla e dopo ci metto la carne macinata e la cuciniamo bene bene di regola va anche un pochino di vino bianco ma io non gliel'ho messo dopo metto giusto un po di di salsa e faccio cucinare molto bene mi piace mi piace mi piace una volta preparata la carne macinata incominciamo ad assemblare allora prendiamo una pentola, una teglia e mettiamo le patate fritte dopo ci mettiamo le melanzane fritte e dopo di che la carne macinata attraverso la carne macinata sinistra Grazie a tutti. A questo punto dobbiamo coprire. Copriamo con la besciamella e ho fatto la besciamella classica con farina, burro e latte e un po' di noce moscata. Quando sta per formarsi la besciamella mettiamo le uova sbattute e così continuiamo a girare finché cucina. Vedete? Adesso le mettiamo a filo e finché cucina il tutto. Considerate che io su mezzo litro di besciamella ho messo due uova, non ci sono dosi, però regolatevi voi. Io vi metterò soltanto ciò che serve giù nell'info box. Mi raccomando cliccate su mostra altro. Adesso mettiamo sulla carne macinata cotta il formaggio e dopo che abbiamo spolverizzato bene con un bel po' di formaggio mettiamo la nostra besciamella. Ecco, sulla besciamella ci mettiamo un po' di pan grattato e dopodiché andrà tutto in forno a 200 gradi fino a che si forma una leggera crosticina sopra. Eccola appena sfornata. Se vi è piaciuta la ricetta mettete un bel pollicione su, iscrivetevi al canale se vi piace e noi come al solito ci vediamo alla prossima ricetta. Un'altra cosa, a noi è piaciuta tantissimo, se voi volete prepararla preparatela pure perché è buonissima, è un piatto unico. Ciao, alla prossima! Grazie a tutti!